Adesso condivido lo schermo, in particolare le curve di... le parti sul tempo di ritorno e vi racconterò appunto di che cosa si tratta. Tempo di ritorno. Il tempo di ritorno ci serve a specificare che cosa sono le precipitazioni esterne. Sì, scusate, estreme. Quando, per esempio, noi sentiamo... questa è stata una bomba d'acqua, un termine che è entrato nell'uso quotidiano di questi tempi. Noi, diciamo, in modo inesatto, ma in qualche modo evocativo, andiamo a definire quelle che sono delle precipitazioni estreme. Nell'ultima lezione che vi avevo registrato, avevamo anche visto quali erano le precipitazioni estreme su tutta la superficie della Terra e ne avevamo dato una classifica, per così dire, qualitativa. Mentre ora andremo a definire rigorosamente quali sono i termini che ci permettono di definire una precipitazione come estrema piuttosto che no. Ovviamente andrò a proporre anche alcuni strumenti per la stima delle precipitazioni estreme ed in particolare vi cercherò di dare delle... Beh, la teoria che vi vado a mostrare è completamente classica. Vedremo poi in una delle prossime lezioni se riusciremo anche a parlare di alcune teorie più recenti. Le serie temporali che ci restituiscono le precipitazioni non sono l'elemento da cui partiamo. Infatti noi abbiamo una serie di dati generalmente registrati in modo continuo dalle stazioni meteorologiche generalmente ad intervalli di 15 minuti, ora, un tempo, erano ad intervalli di un'ora oppure su intervalli regolari a causa del funzionamento dei pluviografi. Questi dati tuttavia erano elaborati per produrre tabelle come questa che vedete rappresentata qui. Questa tabella in particolare rappresenta per ogni anno i massimi di precipitazione, in questo caso in millimetri, per durate prefissate, cioè un'ora, tre ore, sei ore, 12 ore, 24 ore, e si riferiscono non tanto, così non mi vedete immagino, si riferiscono non tanto alla durata di un evento meteorologico, ma si riferiscono piuttosto a durate prefissate in cui le piogge sono accumulate a prescindere dal numero di eventi che sono prodotti. Quindi il dato è costruito, diciamo, artificialmente su finestre mobili che sono fatte scorrere sulla serie temporale completa dei dati e poi vengono registrate queste precipitazioni. Come vedete qui abbiamo anche dei valori che sono segnati come NA e questi NA altro non sono che not a number, vuol dire mancate acquisizioni di questi dati. una misura però per anno. Notate anche i numeri, un'ora 50 mm, quindi una precipitazione in qualche modo massima annuale può essere di 50, 35, 40 mm. Vedete in fondo anche una precipitazione di 89 mm e poi andremo a vedere con maggiore dettaglio che cosa questa precipitazione significhi nell'ambito della serie, questa volta, delle precipitazioni massime annuali che vedete segnate. La prima operazione che possiamo fare con queste precipitazioni è andarle a plottare sulle durate. Evidentemente non ho un singolo valore per ogni durata, ma ho tutti i valori che ho misurato per ogni durata. I valori si predispongono su un diagramma di questo tipo e naturalmente pongono un problema perché per ogni durata io ho una distribuzione di valori, non un valore singolo. Un modo per rappresentare in forma sintetica queste distribuzioni di valori sono i diagrammi a scatola. I diagrammi a scatola sono appunto queste scatole che vedete. Le scatole rappresentano degli specifici indicatori statistici. In particolare il punto inferiore che vedete qui segnato rappresenta il quartile inferiore. Ciò significa che il 25% dei dati è più, è inferiore a questo valore. Il bordo superiore della scala invece è il quartile superiore. Il 75% dei dati è più basso di questo. Il segno centrale invece rappresenta la mediana, ovvero quel valore rispetto al quale la metà dei dati è maggiore e la metà dei dati è minore. Sono segnati anche dei baffi, o whiskers in inglese, e questi segnano i valori attesi degli estremi del campione. Cioè noi abbiamo un campione, prima erano circa 80 anni di campione, nei dati che abbiamo visto, e io mi aspetto che in 80 anni i dati stiano compresi fra due valori estremi, che per esempio non potrebbero essere, e se la distribuzione fosse gaussiana, potrebbero essere tre volte la deviazione standard. I dati che escono da questi baffi, dai whiskers, scusate, sono degli outlayers, dei dati fuori quota. Infatti io in un intervallo temporale posso misurare anche delle precipitazioni molto più elevate di quelle, per esempio oggi potrebbe venire il diluvio universale, una bella giornata di sole invece, e questo diluvio universale quante volte capita? Una volta nella vita della Terra, cioè quindi una volta ogni, non so, un miliardo di anni, supponiamo. Però io lo misuro in un arco temporale, in una serie di misure finita. Questo dato però sarà molto diverso dagli altri dati, e appunto gli outlayer sono questo tipo di dati, che sono rappresentati dai pallini che vedete. Vedete anche dalle curve che in questo caso gli outlayer sono... per valori superiori e non per valori inferiori, ma potrebbero essere anche outlayer in negativo, cioè precipitazioni negative rispetto alla media attesa. E profora, scusi, mi senta? E cos'è dunque il tempo di ritorno? Un concetto che vi ho già anticipato in precedenza, sul quale noi costruiamo le nostre considerazioni. È l'intervallo di tempo medio, in cui una certa altezza di precipitazione si ripete o è superata. Qui parlo di precipitazioni, ma ovviamente il concetto è del tutto generale, si può applicare a qualsiasi serie temporale di misure. Quando una grandezza, il tempo che intercorre fra due momenti in cui un certo valore di una certa grandezza viene ugualiato o superato, si chiama tempo di ritorno. Non ovviamente in una singola ripetizione, ma in molte ripetizioni di questo, perché è l'intervallo di tempo medio, come vedete segnato. Possiamo chiamare T grande l'intervallo temporale su cui disponiamo di una certa misura. Per esempio, per fare riferimento ai valori che abbiamo visto prima, l'intervallo temporale era di 80 anni. T grande è di 80 anni. In questo intervallo temporale, noi compiamo n misure. Per esempio, abbiamo una misura all'anno di massimo. Quindi, in questo caso, l'intervallo temporale n è uguale ad un anno. E quindi abbiamo n misure fatte nell'intervallo temporale T. Se T a sua volta è misurato in anni, ovviamente T grande è n, come l'intervallo delle misure. Quindi facciamo ogni... Mi dica, non si sente l'audio? No, io, lei, senta ma... Lei non ha... io non la sento l'audio. Mi può mandare in chat per cortesia? Certo, ha già scritto, già scritto. Ok, ok, va bene. Ora siamo, abbiamo definito l'intervallo temporale che vedete T grande sopra. Può essere che la rete sia molto, molto problematica oggi, perché immagino che molti colleghi si stiano collegando via internet, non solo colleghi, ma tutti quanti. Quindi T grande è l'intervallo nel quale noi facciamo le misure, n è il numero di misure, e quindi l'intervallo della singola misura è mt diviso n. Nel nostro caso m potrebbe essere il tempo di campionamento di una misura singola, e quindi è, se vogliamo, una situazione soggettiva. Noi scegliamo, nel caso del tempo di ritorno, di fare una misura all'anno, ma potremmo fare anche una misura al mese, una misura alla settimana. Allora, andiamo a vedere quante volte, e sia L, L piccolo, il numero di volte in cui una certa altezza di precipitazione che abbiamo chiamato qui H star, è uguagliata o superata. In questo caso abbiamo fissato appunto H star, nel nostro caso potrebbe essere, che ne so, 18, no, 18 è troppo poco, 35 mm, e andiamo a vedere nell'arco delle misure che noi possediamo, delle n misure che noi possediamo, quante volte l'altezza di precipitazione è superiore a 18 mm. In questo caso abbiamo L volte che L volte questa misura è superata. Allora il tempo di ritorno risulta definito in modo abbastanza semplice, come il tempo totale di misura diviso il numero di volte che noi abbiamo superato il valore prefissato. Quindi questo tempo di ritorno in particolare è il tempo di ritorno della misura H star. Quindi, come potete osservare qui, ciò non significa che il superamento di ogni singola misura sia intervallato in modo uniforme durante la durata delle n misure. Come vedete, per esempio, gli eventi 2 e 3 si susseguono in due anni successivi. Poi esiste una serie, dopo l'evento 4, una serie di eventi in cui il valore prefissato non è superato. Quindi la distribuzione di questi superamenti durante la nostra serie temporale può essere spaziata in modo non uniforme. Il tempo di ritorno quindi risulta T diviso L, T è la durata. La durata, d'altra parte, è data per l'intervallo di durata che è M ed N, che è invece il numero totale di misure che abbiamo fatto. Quindi è N per M diviso L. E possiamo andare a definire, quindi da un punto di vista puramente empirico, quella che chiamiamo frequenza di superamento, ovvero la frequenza il numero di volte in cui la frazione in cui l'evento è superato. Questa è ovviamente L diviso N. La frequenza di successi, quindi di misure superiori uguali ad H star, si può allora descrivere come, cioè anzi il tempo di ritorno, si può scrivere allora come M, che è l'intervallo di campionamento singolo, diviso la frequenza di superamento, cioè la frazione di volte in cui la certa precipitazione H star è superata. La cosa interessante è che questa frequenza di superamento che noi abbiamo ottenuto in modo del tutto empirico in questo momento si può correlare la frequenza di non superamento, ovvero la frazione di volte in cui la precipitazione H star è superata è uguale ad 1 meno la frazione di volte in cui la precipitazione H star non è superata. Questa frazione di non superamento, cioè quella che vedete segnata come FR aperta parentesi tonda H minore di H star si può anche definire come SEDF Empirical Cumulative Distribution Function cioè la distribuzione empirica dei dati la distribuzione empirica dei dati e in genere in seguito userò questa dizione anche perché i programmi che poi usano che useremo usano questa dizione di Empirical Cumulative Distribution Function o in italiano sarebbe frequenza di non superamento. Finora abbiamo parlato di frequenze di non superamento abbiamo introdotto in maniera molto empirica il concetto analizzando una serie temporale in modo ideale dopo naturalmente bisogna avere gli strumenti per farlo anche al computer. Risulterà in base alle vostre conoscenze tuttavia che noi potremmo sostituire alla nostra conoscenza empirica cioè alle frequenze di superamento e alle CDF l'Empirical Cumulative Distribution Function potremmo sostituire la probabilità. In questo caso la formula del tempo di ritorno diventa quella che vedete scritta qui cioè è uguale al tempo di campionamento diviso la probabilità di superamento oppure al tempo di campionamento diviso 1 meno la probabilità di non superamento. Qual è la differenza sostanziale? Il cambio di lettera da FR a P sta a significare che io ho in mente anche un modello probabilistico per il mio fenomeno qui. Aggiungo ho fatto un'aggiunta prima analizzavo semplicemente i dati e mi accontentavo di quello che i dati mi dicevano adesso dico ma quei dati in base alle conoscenze che io ho e che sono state accumulate si dovrebbero distribuire secondo una certa distribuzione di probabilità. Per nominare una distribuzione di probabilità che voi conoscete per esempio questa distribuzione di probabilità potrebbe essere gaussiana supponiamo la curva gaussiana diceva la gaussiana non va bene perché ammette valori negativi però mentre le precipitazioni sono solo positive allora potremmo dire per esempio una curva log normale le precipitazioni queste precipitazioni supponiamo che siano distribuite secondo una curva log normale questo è un passo in avanti nel senso che quello che noi che noi facciamo in questo modo è dire beh adesso abbiamo un modello una funzione che mi descrive la probabilità quindi spostiamo un po' in avanti il problema adattiamo dobbiamo andare a vedere rispetto ai dati che noi abbiamo misurato quali sono i parametri della distribuzione che interpolano i dati prima quindi con un semplice cambio di lettera qui abbiamo in realtà introdotto una serie di operazioni che dobbiamo fare cioè prendere i dati della nostra tabella interpolare una curva di probabilità e poi arrivare al tempo di ritorno e questo ovviamente richiederà tutta una serie di acquisizioni di una serie di algoritmi e di modalità per passare appunto dai dati così come si trovano alle alla determinazione della probabilità volendo fare un passo leggermente indietro per esempio allora il tempo usando le formule empiriche che comunque avevamo introdotto in precedenza potremmo andare a considerare che cosa significa per esempio la mediana se andiamo a vedere la mediana la mediana è il quantile 05 si chiama anche significa che metà dei dati stanno sopra e metà dei dati stanno sotto quel valore il tempo di ritorno se le misure sono in anni è 1 diviso 05 uguale a 2 il quartile inferiore invece che il quantile 025 è 1 diviso 075 che fa 1.33 il quantile 0.75 invece in questo caso è il tempo di ritorno di 4 anni con questo grafico in particolare in cui in qualche modo ho interpolato per esempio una linea verde potrei pensare di selezionare per ognuna delle durate una certa frequenza probabile per esempio quella che corrisponde al tempo di ritorno di 4 anni quindi seleziono un solo punto di tutti quelli che stanno sulla verticale di un'ora seleziono un solo punto di tutti quelli che stanno sulla verticale delle 3 ore seleziono un unico punto anche per le altre durate ottengo quindi 5 punti che poi posso tentare di interpolare qui li ho interpolati con una retta la ragione vi sarà chiara fra poco e quindi sono in grado a partire dalla mia tabella di dati iniziali poi di ottenere una curva che interpolerà che cosa sulle scisse abbiamo le durate quindi in funzione delle durate l'altezza di precipitazione ma questa questa curva che ho disegnato interpreta anche un altro fatto cioè la frequenza con cui gli eventi si riproducono e quindi il tempo di ritorno quindi la curva è una curva che dipende da tre variabili la durata è l'altezza che hanno tre variabili l'altezza di precipitazione che è la variabile che voglio inferire la durata e c'è una variabile per così dire nascosta in questo grafico almeno che è il tempo di ritorno a questo punto siamo in grado di definire che cos'è una precipitazione estrema è quella che si ripete con un tempo di ritorno molto elevato che cosa sia un tempo di ritorno molto elevato è un concetto relativo ed è relativo in particolare al tipo di opere che si vanno a studiare e per esempio se noi progettassimo una una fognatura il tempo di ritorno con il quale ci confronteremo sarebbero cinque o dieci anni di tempo di ritorno cioè andiamo a considerare quale altezza di precipitazione si viene a generare in un certo luogo con un tempo di ritorno di cinque o dieci anni un evento invece per fenomeni fluviali come esondazioni e cose di questo tipo i tempi di ritorno a cui siamo interessati sono quelli solitamente molto elevati per esempio duecento o trecento anni di tempo di ritorno quindi una bomba d'acqua se vogliamo usare questo termine che ad alcuni dei miei colleghi piace ad altri non piace io lo utilizzo perché è comodo una bomba d'acqua è quella precipitazione che si ripete in un certo luogo con un tempo di ritorno molto elevato qui ho messo duecento anni mediamente ogni duecento anni perché io posso avere due di queste precipitazioni nello stesso luogo anche nello stesso anche in due anni di fila e poi non averle per esempio per quattrocento anni un altro concetto che va chiarito è che questo tipo di analisi così come ve l'ho presentato cioè l'analisi di una serie temporale di dati che si sono definiti in un punto sono si riferiscono ad un certo luogo se io prendo due luoghi sufficientemente distanti in maniera tale che le precipitazioni che questi verificano sono indipendenti l'uno dall'altro potrei avere una precipitazione con un alto tempo di ritorno in questo luogo poi una precipitazione con un alto tempo di ritorno in un secondo luogo l'anno successivo e poi l'anno successivo ancora in un terzo luogo avere una precipitazione con un alto tempo di ritorno questo ci rappresenta il fatto che per esempio in Italia noi verifichiamo ogni anno precipitazioni con alto tempo di ritorno che sono a volte distribuite anche su tutta la penisola ma molto più spesso si tratta di eventi localizzati indipendenti fra di loro questi hanno un elevato tempo di ritorno certamente se noi andiamo a considerare la probabilità che uno di questi eventi accada in un punto spazialmente esteso certo la frequenza con cui noi dobbiamo far fronte alle emergenze è molto più grande abbiamo uno due dieci di questi eventi ogni anno in tutta l'Italia intanto direi che possiamo fermarci qui per riprendere fra cinque minuti scusi mi senta adesso non sto parlando no lo sto cercando di senta va ok di di